Buonasera a tutti quanti, a che cosa è Tenerife? Questa sera parliamo del El Miratore, con quattro amici siamo venuti qui al ristorante della Sgaietta, vicino alla Sgaietta un po' più a nord, perché mi hanno chiesto, sono venuti qui a trovare Er Callori come al solito, un posto dove si mangia la paella, con un pochino di foto noi abbiamo condiviso e con questo video io vorrei condividere l'esperienza di questi amici. Che non avete pensato di questa paella che ci siamo mangiato? Io non so parole, lascia la parola appino, naturalmente ci siamo sporcati le mani con delle chene molto importanti e di conseguenza stiamo molto bene, Er Callori si è tagliata la barba, sei ingiovanito nuovamente, un altro ciclo, un'altra immagine eccetera, benissimo. Con tutto questo io credo i nostri amici ritorneranno a trovarci a Tenerife per inventare cose nuove, ma questo in un'altra puntata lo spiegheremo. Ci rivedremo, ci rivedremo. Benissimo, grazie per l'attenzione, Francesco Callori da Tenerife perché cos'è Tenerife, i nostri amici che ci sono venuti a trovare. Ciao a tutti, ciao, ci vediamo. Ciao a tutti.